Una mitraglietta tipo Mab Calibro 9, 17 pistole di cui 4 lanciarazzi, anche dotate di silenziatori, un fucile, una carabina, una sciabola, una baionetta. Sono le armi, molte prive di matricola o con matricola a brasa e alcune a salve o modificate, sequestrate in un box di pertinenza di un'abitazione a Ruvo di Puglia nell'ambito dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che lo scorso 13 maggio ha portato all'arresto dell'ex Jeep di Bari Giuseppe De Benedictis e del caporal maggiore scelto dell'esercito Antonio Serafino. Lo stabile dove sono state trovate le armi è risultato nella disponibilità di Serafino. Il sequestro delle armi è stato eseguito dalla squadra mobile di Bali lo scorso 22 giugno a seguito di un decreto di perquisizione emesso dai magistrati Salentini. Gli accertamenti balistici dovranno ora verificare di chi fossero nella disponibilità e stabilire se le armi siano state utilizzate in episodi delittuosi. Oltre alle armi sono stati sequestrati parti di arma, canna, otturatori, cartuccere, caricatori per armi da guerra e munizionamento di vario calibro anche da guerra. Tutto il materiale sequestrato, dicono gli investigatori, si presentava in perfetto stato di conservazione. Le armi si trovavano in un baule militare di colore rosso custodito in un armadietto chiuso con un lucchetto. Tra le armi sequestrate c'è anche una penna pistola. Nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce è indagato anche un imprenditore agricolo di Andria, Antonio Tannoia, nella cui ville il 29 aprile fu trovato un arsenale con oltre 200 armi, tra fucili mitragliatori, fucili a pompa, mitragliette comunemente usate dalla criminalità organizzata, in agguati armati, dicono gli investigatori, e circa 100.000 munizioni. Tannoia, con l'ex jeep De Benedictis e il militare Serafino rispondono di porto e detenzione di arma da guerra ed esplosivi, di armi comune da sparo e di munizionamento per armi da guerra e per armi comuni.